Ciao a tutti gli amici di GameStreet, qui Shinigami e Gil e anche quest'oggi vi portiamo un nuovo account giveaway Allora, questo è un account un po' più ricco rispetto di Stones e rispetto all'altro E qua facciamo il, diciamo, il testing banner sulla leggenda di uscita per la seconda parte dell'anniversario Ovvero, questa qua, dove si possono trovare i due nuovi personaggi, che ve li faccio vedere subito Uno è questo, che diventano così Il trio delle meraviglie Che è capitano delle Dragon Ball Seeker, cercatori di sfere E l'altro è Baby Vegeta che diventa così Capitano Artificial Life Form Fa abbastanza schifo Eh, bisogna essere sinceri Fa proprio schifo sto personaggio E poi, vabbè, gli altri sono abbastanza... Cioè, capito? Lasciamo perdere, va? Che è meglio E... Sì, vabbè Ah, questo Trunks Questo Trunks l'ho messo a per tutto durante l'anniversario Come vedete, vabbè, c'è ancora... ci sono ancora Cocori quarto E Vegeta e quarto Comunque, abbiamo 2172 stone E abbiamo deciso di spenderne circa 1150 In modo che rimangano una... un migliaio... un migliaio di stone Un migliaio, almeno un migliaio di stone per chi si prenderà l'account Così, se vuole, può buttarsi su Cocori quarto Vedete, di quarto Può fare quello che vuole Summon future, ecco, sì Esatto, da mondo Ok, quindi cominciamo a pullare qua sulle Legendary Non ci sono... non c'è nessun bonus come l'altra volta C'è 3 più una gratis Questa è 50, 50, 50, 50, 50, 50 Fino allo sfinimento Esatto Quindi Partiamo Ah, come vedete, nuova grafica Ehm... Che, vabbè, insomma Vi facciamo... vi facciamo... vi... da grafica vedrete Gli obiettivi, diciamo così Però... Speriamo, insomma, che vi piaccia... vi faccia piacere Cominciamo Vediamo un po' cosa esce E qua, Legendary, come vi dicevo nell'altro video Qua, per esempio, un Vegeta, un Vegito Vuol dire LR In questo caso, niente Perché si sarebbe dovuto trasformare subito in Super Saiyan Quindi vediamo cosa... può uscire lo stesso, eh, la LR Beh, ovvio, però... Un Vegito è assicurato, no? Sì Andiamo... cercheremo di andare più veloci per... O SSR, prima Bardak Gis Ok Due SSR Bardak E Frisa No Ok E Frisa Questi ve li locco sempre E proseguiamo E con questa siamo a 100 stone Abbiamo detto 1150 C'è di nuovo Vegeta Dai No Niente Due Secondo livello Vediamo un po' Questo è un personaggio banner Però è un personaggio abbastanza vecchio E ormai ha fatto il suo tempo Ma già parecchio tempo fa ha fatto il suo tempo E anche questo lascia un po' desiderare Però 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 Altre due SSR Ok Proseguiamo 150 Vediamo un po' Che brutta copiata Come vedete Come vedete le animazioni Rispetto al video scorso Queste fanno un po' schifo Cioè Sì Ovviamente No terzo livello Incredibile Anche qua non riusciremo a raggiungerlo mai il God Vedremo Janemba Super Saiyan Goku Androide 19 Cell Piccolo Bido Krilin Kurilin Goten Ci abbiamo trovato più SSR Oh il Vegeta È capitano della Vegeta's Family Ah Vabbè Andiamo a 200 stone Dai 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 Vediamo un po' Cosa esce Goten E Trunks Personaggio Band Personaggio Band Uh Non si trasforma Attenzione Attenzione Crack Crack 1 Sicuro Se è doppio LR Vediamo No Non ci ha dato questa gioia Niente gioia Vabbè Mai la gioia ragazzi Bardak Una heal Personaggio del banner Quindi può essere merda Perché infatti Eccolo qua Ehi Due Due Era sto freezer qua Eh purtroppo qua I Personaggi banner Cioè se non sono gli LR Fanno proprio schifo Eh abbiamo visto Non sono Non meritano ecco Il massimo Non meritano Prendiamo di beccare qualche LR 250 Beh comunque dobbiamo rimanere a 1000 stone Vegeta E Krilin Noi Ma fondetevi Ho capito che Vegeta Non gli piace Fondersi con Goku Però cioè Niente Mannaggia Shugash Ma sbaglio ho visto Pochi Trunks Quello Quello schifoso Sì Meglio Non lo chiamare Per carità di video Oh Virus Personaggio di Dragon Ball Fusion La fusione tra Beerus e Whis Eh sì Ottimo Proseguiamo Quando vuoi farla te Non lo dici Sì tranquillo Devo sentire l'ispirazione Ok Mettiamo l'ispirazione allora Tre personaggi E Kamehameha Uno Due Tre God Niente God Non so cosa sia sta roba Però Vabbè insomma Ok Ok Proseguiamo Pan Sin Sharon Eccolo Vedi dovevi stare zitto Un altro Sin Sharon Goku Vegeta Trunks Basta Questo è il Vegeta God Questo è un buon personaggio La media di due SSR Comunque Sam Non ci sta venendo fuori Sì perché Uno ha sicurato E l'altro Diciamo che c'è Possibilità Di trovarlo Sì No non è male dai Vabbè è un po' lo schifo Ho visto diversi video C'è gente È stata molto più fortunata Che tipo C'è Vegeta E vabbè ma noi Ma io non ho già Dai Vegito Omega Questa è l'R Ragazzi Vediamo chi è Dai 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 Omega number one Ogni tanto si sente Mi piace sempre sentirla Yanko Ecco l'R No si Vabbè No è lui Non è il freezer Eccolo Mighty Mask LR Gotten e Trunks Questo non è male come LR Però Ovviamente Se era Goku e Freezer Tanta roba Un altro LR Che scolamento estremo Che scolamento estremo Ottimo 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 Io mi vergognerei Davvero ottimo Porca miseria Davvero ottimo Eccolo qua Vediamo se farà il mio back to back Ragazzi Vai 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 Che il back to back Di solito funziona Intanto le campane Sì la chiesa Sì la chiesa Back to back C'è Vegeta C'è Vegeta C'è Vegeta No Non si è fuso Però potrebbe uscire Potrebbe uscire lo stesso Però Terzo God No Ok va Non abbiamo ancora visto il God Incredibile Piccolo Incredibile Dottor Ghero Freezer Oceanus Vabbè niente Sa che è vuota Non me l'aspettavo due LR Sinceramente No Buono Lei è capitano della categoria Android Non è la C17 È C17 Però lei dal 150% HP attacco e difesa È evoluta Qua 120% Invece C17 Dal 170 Ha due statistiche E 130 All'altra Sì Vabbè però insomma Ma perché suona le campane Vabbè È perché è l'ora della messa Oh LR LR Back to back in ritardo però Non ho sentito cosa ha detto Eh vabbè Ho fatto casino io Eh Vediamo chi è Speriamo Insomma Ho Goku e Freezer Che è quella a cui Insomma Puntiamo Non è lui Ebbè non è un LR Dai dai Goku e Freezer Oppure Ho I trio Dei Dragon Ball GT Non è male Neanche lui Baby Vegeta LR nuova Perfetto Dai Almeno abbiamo la novità Oh non è finita Scusate Ero convinto Vossi è l'ultimo E ragazzi Quattro SSR In una multi Sì Uno due Tre quattro Di cui tre di fila Niente da Da dire ecco Niente da dichiarare E Buono Buono Lo so se i rate Sono più alti O Abbiamo trovato Tre SSR E ancora mancano Settecento stone E tre LR Sì tre LR Volevo dire Scusate Ah ok Non è tre SSR Pensavo dicevi qua Anche perché qua sono quattro Chiavegietta di nuovo No Eh vabbè dai Mica è sempre domenica In teoria Sì Oggi Registrano E domenica Terzo livello Niente Niente Non ci dà la soddisfazione Non riesce a superare Il limite Del Super Saiyan Che ha superato Il limite Del Super Saiyan Eh mi sto divertendo Bella roba Bara Bella Bra 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 Buffer Spettacolare Dai che mi è venuta L'ispirazione Appena blocchi Vai Prego Questa è la Multi di Jill Attenzione 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 Non so se l'avevo già detto Infatti Vabbè Quattro personaggi Ah Uno Due 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 Vediamo un po' Vediamo un po' Bene bene Mister Satan Frost Trunks Balon Bello more Lui mi deve uscire Fan Virus Strong Che bruttezza Eh vabbè Personaggio vecchino Però Ma Ma sei Io sono abbonata C17 A Trunks Eh o ragazzi Che ci devo fare Beh Due SSR Li ho trovati Mi è andato un po' Malazzo Basta Sì sì Ma non lo so Non ero super ispirato Vabbè manca ancora 600 stone C'è Siamo ancora messi abbastanza bene C'è Vegeta C'è Vegeta C'è Vegeta Niente Vediamo se è il doppio crack de screen Terzo Niente God Mi spiace Non riesco a farvi vedere il God Ragazzi C'è niente da fare Gis Oh Trunks GT Yakon Gon 18 Sapando il cavolo 19 Ub Nail Mamma mia Pascio Una fascia per capelli Sì E poi vabbè Avete le coin Sarveranno per prendere i personaggi Ma Esatto Onde Saranno poche Perché ovviamente Per comprare i personaggi Vi saranno 500 Mi sembra 500 coin Beh È venuto Comanda solo Ha detto Oh ma no io Babà Niente Un release Come lei Non l'abbiamo visto No Primo livello solo E basta Non l'abbiamo visto Questa mi sa che è una salmon un po' schifosina Master Roshi Mi sa proprio di sì Zamas Mi sa che questo è proprio Da buttare Oh hai nominato quel Trunks ed è iniziato a venire fuori Un altro virus È una cosa assurda Secondo personaggio di Dragon Ball Fusion Uguale all'altro che abbiamo già trovato Però vabbè Infatti Dai Ancora 500 Stones 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 C'è Vegeta Attenzione Oh my god Oh my god Number one LR signori Sì ma non ha detto Non l'ha detto Però Sì è più emozionante Quando lo dice Però vabbè Che si sente Vegeta Ecco l'LR Basta Ma si prendi anche come primo Porta la fortuna Dai Dai facci uscire Freezer Google Freezer Ce lo fa studare È l'ultimo Un altro Baby Vegeta Abiniti Abiniti Un ottimo inizio Non è Non è una È una delle LR migliori Vuoi provare il back to back? Sì Vai Vado eh ragazzi Altra multi di Jill Signori Vediamo se faccio Faccio il back to back Lei punta sul back to back Non è giusto però Gotten e Trunks Mi sono usciti No non mi sono usciti Sono usciti a te prima Attenzione Back to back Ma anche prima con Gotten e Trunks Non si è trasformato Sì Però ho fatto soltanto una It's Over Freezer No Tenchi Dragon Ball No Oh Vabbè Vegeta Eh capitano nuke Per forza Si scelta Uldo Trunks Demira Poi ho perso Lato bruttissimo Eh mamma mia Questo va proprio schifo Che salmon di merda Io non salmono più Basta Ho fatto due salmon E fanno schifo Tutte e due Non ho il tocco magico Oggi Lo senti il tocco? Sì Oggi no Meglio non rovinare St'account Vediamo un po' Se c'è il back to back E il ritardo Anche qua Come prima È vero Prima è venuto in ritardo Quattro personaggi Super Saiyan Si è trasformato alla fine Primo livello Ma mi sa proprio uno schifo Già Goku Altro che back to back Borgos Pan Sai junior Mamma mia Sì sì Questa è Proprio Shaftata totale Ma perché si Ma perché si Pewirus Sì vabbè Ma questo Fallability È un'offesa A tutti i personaggi Vabbè ho capito Però cosa fai Gli dai come È anche brutto Però Eh lo so Però Insomma Dai Back to back to back C'è Vegeta C'è Vegeta È sempre bello dirlo Niente Due Tre Niente 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 Per un attimo Mi era sembrato Si trasformasse Per un attimo Speravo E invece Ma Super Saiyan 3 Porta sfiga Cacchio E infatti Non si trova mai niente Con Super Saiyan 3 È meglio che rimanga secondo Oh Paragas Paragas di Mer E Great Saiyan Paragas non è male Non sarebbe male Trovare anche il Broly nuovo Eh il tech Perché c'è Quale? Quello vecchio No quello nuovo ho detto No e Quello del vecchio film L'ultimo LR No il primo Il primo film Ah ok Goku da solo Non ti trasforma male Perché? Che almeno facevamo Il crack del skin Sicuro Vabbè Chi si frega God No Oh ma porca miseria Adesso faccio una pella Da Dokkan Basta Togliete il terzo livello Non serve a niente Guarda Eh il culo qua È uno spreco di energie No Allora Oh Il caio dell'ovest Il caio dell'ovest Questa l'abbiamo già trovata Nell'altro account Sì C'è Però troviamo Siamo vicino alla conclusione 200 stone 4 summon Eccolo Eccolo Il tuo dei merdine Trio magico Oh warida Ma tanto ero già assicurato Sì ma non insultare Adesso fammi il god God Prima volta ragazzi Finalmente Ce l'abbiamo fatto Vuol dire Almeno 3 SSR Nella multi assicurati Vediamo chi sono Sta panna Quante ne sono uscite Uno Due E l'altro è quello Quello garantito Sì Tre Sì Abbiamo aspettato il god Per Per il nulla cosmico Esatto Proseguiamo Di nuovo Ancora Il trimmerdino Vai di nuovo god Vai No Secondo livello stavolta E basta Eh insomma Non è che puoi pretendere Chissà cosa Vabbè che tipo Ti possono uscire anche Tre o più Con Con il secondo livello Vabbè sì In quel modo Ce l'hai solo assicurato Majub Non avevamo già trovato Uno di queste Ma non mi ricordo Ma questo Questo qua è Fede la baccia Allora E questo qua si potrà trovare Era un personaggio Baccia Perché dubito che sia Majub Oh sì Oh sì Boh vabbè Gli ultimi 150 stones Signori C'è 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 Niente Non si è Trasformato Subito Primo livello Dai 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 Questo No Sarà uno schifo Shaftata Probabilmente Shaftata Sì Androide 19 Sin Sharon Hercule Schwen Infatti Shaftata totale Chi è questo Bojack Ah vero Full power Magari fosse stato quello LR Visto che c'è LR Vero E io ce l'ho Anch'io Che l'hai in Bojack Eh sì Quattro personaggi L'Elysar Cobaleno Forse è la prima volta Non lo ricordo No no la seconda Seconda? Sì Vediamo Sorbet Gis Towser Pan 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 Vegeta Quei baffetti tagliati Mamma che schifo Le ultime L'ultima Sammon Multi Dai Signori Siamo alla fine Vediamo un po' Se l'ultima Ci concederà L'LR Oppure no Vedremo Il Trio Merdino Era meglio Se non si trasformava Vabbè Però Regalaci emozioni Trio Merdino Il God God di nuovo Ultima Multi Col God Vediamo Se ci regala L'LR Paragas Frost Trunks Blè Se è lui Mi sa che è quello Della baccia Trunks Blè Ve lo fa Sin Sharon Che l'avamo già trovato Quindi Ability E anche questo L'avamo già trovato Sì Niente Beh Signori Non si può dire Che è andata male Perché comunque Qualche L'LR È uscito Eh sì Due in una multi Poi anche Quindi Quattro Ne sono usciti In tutto Sì perché Baby Vegetta Ne abbiamo trovati due Mettiamolo per Mettiamolo per Tipo Eh no Rarità Rarità Allora Uno Sell Poi Due Tre E quattro Sì Quattro Quattro Guardate qua Avete un po' di roba Sì Dei Kai C'è un bel po' di roba Quindi Da fare Da divertirvi Esatto E in più Avete anche le mille Stone Le milleventive stone Non è male per niente Quindi E niente ragazzi Direi che per questo video è tutto Spero che L'account vi piaccia E E che partecipiate E che partecipiate Le regole sono sempre le stesse Esattamente Ma le metteremo in descrizione Ovviamente Quindi Niente Alla prossima Ciao a tutti Ciao ciao